Fatti, oddio, oddio, oddio mamma mia, è possibile? Sì, ho fatto tredici, ho fatto tredici! Amma, che è successo! Sì, questo è il tredici, guardalo! Tredici? Sì, non mi sbaglio! Uno, due, uno, due, due, uno, due, 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 sono tutti giusti! Questa è la progella di Pierino! Ma non è che sarà diventato su mano uno per farmi vincere! Quanto daranno? Quanto daranno? E chi lo sa? Se famo sentì che sino quella è capace di chiedersi pure A per cento euro! E pianta, ma no, purello! Leggi, leggi, leggi! Quanto euro ho vinto, madonna! E no, bisogna sentire i vuoti, speriamo che siano altri! Ciccia! I tredici sono cinque e vincono un miliardo, ottocento e vento cento euro! Ma non è possibile! Mamma mia, bello! Ma non è possibile! Mamma, fai un po' bello! Non ci pensate! Stavo a sentire le partite a radio! Sì, a radio! E me, guardi che ha vinto la Lazio! Può essere! E non è sempre il cazzotto in un stomaco! Che dice che ha vinto pure a Roma, vedrai che si ripita! Sì, sì, certo! Voi ho vinto! Amma, ha vinto a Roma! Sì, ha vinto a Roma! Ma a me che me frega da Roma! A me me frega che ho fatto tredici! Ma io dovremmo dare qualche cosa a sto ragazzino! È giusto! Come fanno? Sì, sapete che ci fanno per tutta sta vigna! Ci fanno rinnovare tutta la trattoria! È stato sempre il sogno mio! Giorni e notti le fare una bella trattoria! Ma tu lo sai perché? Perché voglio lasciar tutta quel nipote mio! Una bella venità! Sì, avete ragione! Speriamo che gli venga pure la voglia di lavorare! Ma come no? Quella mia moglie figura! Gli è diventato oro macinato! Scusate, dottor...